Allora, eccoci qui sul banco High Resolution Mixing Console ASP8024 Cominciamo subito con una veloce carrellata, non video ma sul Channel Strip Andiamo a vedere, partiamo da questa sezione che è messa in posizione semi-verticale In cui troviamo i preamplificatori e i trim per la tape Precisamente cominciamo dal preamplificatore microfonico Qui siamo sul canale 13 ad esempio Abbiamo il controllo di gain Abbiamo la possibilità di dare la phantom o di toglierla al nostro canale Un filtro passabasso, se non erro, a 100 Hz La possibilità di invertire la fase E la possibilità di abilitare l'insert Questo è particolare nel senso che su questo mixer l'insert di default non è inserito sul Channel Strip Bisogna inserirlo Abbiamo la possibilità di switchare tra la linea e l'ingresso microfonico Di default è il microfonico premendo diventa linea E questo switch permette di cambiare, di invertire i meter Poi vi spiegheremo esattamente cosa significa Appena sopra troviamo il trim da meno 15 a più 15 dB del nostro ritorno macchina del tape Anche qui abbiamo la possibilità di abilitare l'insert Che è un insert diverso rispetto a quello dell'ingresso microfonico Appena sopra troviamo i meter di cui vi parlavo prima Di default nel meter più lungo, quindi con maggiore risoluzione Troviamo il tape Con, già prefissato ma solo per convenzione A meno 12 dB FS Che non esistono i dB FS in un mondo analogico Però loro di default hanno fatto in modo che A meno 12 dB FS corrispondano a zero view È un modo per dire che se voi calibrate le schede audio a quel valore Sapete già dov'è il punto di clip e dov'è il punto di zero view Invece per l'ingresso microfonico di linea abbiamo di default Questo piccolo meter che è presente a solo due led Segnale e zero view, quindi il momento di clip Di default quindi abbiamo meno risoluzione sul microfono rispetto che sulla tape Perché di solito il monitoring avviene sulla tape Però se per qualsiasi motivo noi volessimo switchare tra i due emitter Basta premere il tasto di qui prima MTR Passiamo ora alla fase successiva ovvero All'assegnazione dei gruppi Come sappiamo quando noi entriamo con un segnale microfonico O di linea all'interno del nostro mix Dobbiamo di solito per registrarlo assegnare ai gruppi Come sappiamo i gruppi di default tramite patchbay sono cablati con gli ingressi delle nostre schede audio Per assegnare il gruppo basta premere il relativo tasto Quindi premendo il tasto 1 si assegna al gruppo numero 1 Al tasto 2, al gruppo numero 2 e così via Con questo tasto shift possiamo passare dai primi 12 canali ai secondi 12 canali Questo è un banco con 24 bus Ovviamente questo significa che non possiamo assegnare lo stesso canale Lo stesso channel strip a due bus che stanno su due sezioni differenti Quindi in sostanza non possiamo assegnare ad esempio Lo stesso canale al numero 1 e al numero 13 Perché così sarebbe l'1 col tasto shift diventerebbe 13 Abbiamo poi un tasto LF che assegna la matrice di assegnazione ai long fader Poi vedremo esattamente cosa serve E un tasto pan che abilita la funzionalità di pan sull'assegnazione ai gruppi Scendendo troviamo le mandate ausiliarie che sono 12 Tuttavia sono anche queste assegnabili con shift Questo significa che di default abbiamo la 1, 2, 3, 4, 5, 6 Con il tasto ad esempio 7, 8 queste due qui non sono più 1, 2 ma sono bensì 7, 8 Questo significa naturalmente che non possiamo mandare alle ausiliarie 1, 2 e 7, 8 contemporaneamente Questo secondo tasto permette di rendere le mandate pre-fader Di default sono post-fader quindi utili ad esempio per gli effetti Se vogliamo fare delle cuffie come sappiamo le mandate devono essere pre-fader Quindi dobbiamo premere questo tasto sulle AUX che ovviamente ci servono per fare le cuffie Con questo tasto superiore abilitiamo le AUX ad andare sullo short fader Poi vedremo esattamente di cosa si tratta Ovvero le AUX non sono più sul percorso di monitor ma sono sul percorso di mandata Quindi sul mic line Proseguendo sotto troviamo queste AUX particolari che non hanno un numero bensì una lettera A e B Queste sono tutto e per tutto simili alle altre se non per quest'ultimo tasto Il che significa che A e B possono essere assegnate allo short fader in maniera indipendente Quindi premendo questo tasto possiamo mandare la A sullo short fader Con questo sotto la B sullo short fader non sono combinate Il pre-fader o post-fader invece è in comune Queste AUX le vedremo più avanti quando andremo a esaminare la master section Sono utilizzate di solito per fare le cuffie Però è una convenzione diciamo Poi vi facciamo vedere esattamente quali sono i vantaggi Proseguendo troviamo una sezione di equalizzatori Che in realtà sono strutturati in una maniera duale Abbiamo una prima sezione composta dai filtri Una seconda sezione composta da degli equalizzatori Questi non sono esattamente filtri In realtà sono degli shelving Però con pochi parametri Abbiamo anzitutto la possibilità di inserirlo o disinserirlo In questi banchi di default e disinserito Dobbiamo inserire noi i filtri Scusate gli shelving Abbiamo un high shelving Quindi per le alte frequenze Con frequenza di giro Selezionabile tra i 10 kHz O i 18 kHz tramite questo selettore Sotto abbiamo un low shelving Con la possibilità di switchare tra i 50 o i 100 Hz Come frequenza di giro Anche in questo caso abbiamo il tasto short fader Per mandare questa risorsa lo short fader Poi vedremo esattamente di cosa si tratta Appena sotto come ho già detto Abbiamo lo stesso principio di inserimento o disinserimento Lo stesso principio di short fader e long fader Però abbiamo due full parametric equalizer Quindi con boost e cut Con la Q regolabile Tra una campana più larga e una più stretta E la frequenza che in questo caso Per questo low mid frequencies Va da 50 Hz a 1 kHz e 5 Mentre per il high mid frequencies Va da 0,45 kHz a 20 kHz Notiamo sempre la scala che è importante Scendendo sotto troviamo Lo short fader Notiamo subito una cosa Tutte le risorse legate agli short fader Sono in colore grigio scuro Notiamo infatti che la parte di short fader è in grigio scuro Come l'assegnazione ai gruppi è in grigio scuro Come anche il preamplificatore microfonico è in grigio scuro Questo fader funziona come un normalissimo fader di mandata A il banco Quindi una volta Scusate multitraccia Una volta che noi abbiamo ad esempio Assegnato ad un bus un canale Il livello di mandata lo faremo con questo fader Di solito lasciato a unity gain a 0 dB Possiamo assegnarlo a mix Nel caso dovessimo utilizzare questo particolare canale Come ritorno effetti ad esempio O come ritorno macchina aggiuntivo Però è una scelta che possiamo fare E abbiamo la possibilità di copiare Su questo canale Quello ciò che sta sul long fader In realtà dobbiamo fare attenzione Perché l'insert Saremmo tentati di pensare di poter utilizzare l'insert L'insert del mic line È sul mic line appena dopo Prima del fader Quindi se noi copiamo il segnale del long fader Sullo short fader In questo modo E abilitiamo l'insert In realtà non sta funzionando Era una piccola precisazione da fare attenzione Dimenticavo Abbiamo anche il pan Ovviamente che funziona sia sullo stereo mix Che sulla segnazione ai gruppi Di default comunque Questo canale gestisce il segnale microfonico Appena sotto Abbiamo il percorso di tape Quindi con il long fader E i suoi controlli Di pan Di assegnazione a mix Il solo cut Che dimenticavo Sono presenti anche sui short fader E abbiamo un tasto flip Che come vediamo Cambia Sposta il percorso di canale di monitor Tra i due fader Attenzione che questo non funziona Nella stessa maniera In cui funzionerebbe ad esempio Sul lame che ha i sistemi VCA Proprio in questo caso Il segnale si scambia Non sono i controlli che si scambiano Ma il segnale Questo significa che Se ad esempio abbiamo il controllo di pan Tutto su left Sul percorso di canale Sul short fader Diciamo E tutto a right Sul percorso di monitor Nel momento che noi spostiamo Si spostano anche i pan Mentre sul lame Questo non succede Se noi facciamo un flip locale Rieccoci qui Per delineare le ultime caratteristiche Di questo banco In riguardo al channel strip Abbiamo lasciato indietro Questi tasti sf Che significano short fader Per la precisione Questi tasti Permettono di assegnare la risorsa Allo short fader In altre parole Di default Di default Tutto ciò che è in grigio più scuro È il percorso di microfonico Questo significa che Di norma Se non tocchiamo nulla Il nostro segnale entra qui Va ai gruppi Abbiamo l'opzione di fare il livello Però non abbiamo nessuna risorsa Se noi ad esempio Volessimo equalizzare Un segnale direttamente microfonico Non il ritorno Dobbiamo assegnare a questo percorso Di microfonico Un equalizzatore Possiamo farlo premendo Short fader Il tastino sf Possiamo fare la stessa cosa Anche con questi shelving Come possiamo assegnare Anche le ausiliarie In maniera del tutto naturale E semplice Questo ci permette appunto Di avere tante risorse E di giocarcele Tra il long fader e il short fader Questo può essere utile Non solo in fase di recording Ma anche in fase di mix Ricordiamo infatti Che a differenza dell'AMEC Questo banco Ha 24 canali Di default Come ritorni macchina Ma anche questi Possono essere ritorni macchina O meglio Più logicamente Possono essere ritorni effetti Se abbiamo un ritorno effetto Su uno di questi canali Dobbiamo assegnarlo al mix Eventualmente aprire i pan Se necessario Se è un ritorno stereo Fare il livello Ma potremmo voler Ad esempio Equalizzare Un ritorno effetti Possiamo farlo Spostando la risorsa Sugli short fader Rieccoci qui Sull'Odient ASP8024 Stiamo vedendo adesso La terza vasca Ovvero la master section Partiamo dalle cose più semplici Ovvero da questa sezione Che rappresenta Ritorni effetti In questa parte Abbiamo essenzialmente Quattro ritorni stereo Disponibili in patch bay Di cui Possiamo controllare Il livello L'assegnazione Al mix bus La possibilità Di avere un solo O un cut Appena sopra Abbiamo un gain Che ci permette Di avere un trim Di 20 dB Scusate Rispetto al ritorno macchina La possibilità Di assegnarlo Alle fallback Poi vi spiegheremo Esattamente Cosa significa E la possibilità Di assegnarlo ai gruppi A coppie di due Quindi 1, 2, 3, 4 Con anche in questo caso Il tasto di shift Appena a destra Abbiamo questa serie Di potenziometri Che ci permettono Di controllare Il livello di uscita In patch bay Dei nostri gruppi E' sostanzialmente Un trim di 10 dB Sul livello di uscita Molto semplicemente Di default Si lasciano sempre A Unity Appena sotto Abbiamo i master Delle uscite ausiliarie Con un tasto di solo E il livello generale Diciamo che Per aprire un ausiliario Basta semplicemente Mettere al massimo Il potenziometro Questi tasti Che vediamo appena sopra Link to AUX 1 e 2 E anche qui 1 e 2 Servono per Sommare al segnale Già esistente Su AUX 1 e 2 Il segnale Di AUX 3 e 4 E 5 e 6 Per la sezione Da 7 a 12 Possiamo unire 9, 10, 11 e 12 A 7 e 8 Con questi tasti In questo modo Possiamo fare Dei piccoli stem Oppure delle piccole somme Da inviare A un effetto comune Qui sotto Troviamo la sezione Studio Loudspeaker E cuffie Per i musicisti Questa prima sezione Sarebbe pensata Per i loudspeaker I studio loudspeaker Ovvero Le casse da mettere In live room Per una comunicazione Più veloce In realtà Non sono implementate Quindi per ora Non ci interessa Il loro funzionamento Comunque è del tutto analogo Alle fallback Che sono questi due canali Qui a lato Molto semplicemente Questi sistemi Funzionano in questo modo Abbiamo la selezione Della sorgente Quindi possiamo Mandare Tape 1 Tape 2 La control room Oppure Le aux a b Vi ricordate che c'erano Due aux Blu Diverse Sul channel strip Ecco Le ritroviamo qui Al canale left e right Questo significa che Di default Noi dobbiamo assegnare A left A aux a E a right A aux b In questo modo Due segnali mono Vanno uno al canale E uno al canale sinistro Volendo fare una cuffia Mono ad esempio Possiamo mandare A left e right Il segnale Dell'aux a Come preferiamo Abbiamo un livello E abbiamo il comando Di solo Per fare un ascolto Attenzione ad un particolare Sul channel strip Abbiamo detto Che c'è A b A aux Mentre sui ritorni effetti Abbiamo direttamente Fallback Vedete F b A b Questo significa Che questi potenziometri Non mandano il segnale Alle aux Che poi viene Assegnato Al fallback Ma vanno direttamente All'ingresso del fallback Passando un po' a destra Abbiamo la sezione Di control room Che è molto semplice E immediata Abbiamo La selezione Della sorgente Quindi Mix Tape 1 Tape 2 E tape 3 Abbiamo La possibilità Di gestire i volumi Delle singole speaker Adesso vediamo esattamente Come funziona E abbiamo La possibilità Di selezionare Fino a 4 copie Di ascolti Tra main E 3 ascolti Alternativi Questa È la Volume Per i main monitors Quindi è il nostro Controllo di control room Questi invece Sono i controlli Per i singoli Uscite alternative Indipendenti Da questo controllo Di volume Appena sotto Abbiamo un controllo Di cut Della control room La possibilità Di avere una diminuzione Di 20 db Sulla control room La possibilità Di avere un left cut E un right cut E la possibilità Di mettere in mono Ricordiamoci sempre Che l'ascolto in mono Non è veramente in mono Se abbiamo due speaker Attivi Quindi per un ascolto in mono Dobbiamo mettere in mono E mutare Uno dei due Canali Appena a destra Troviamo il controllo Dello oscillatore Utilizzato essenzialmente Per motivi di test Possiamo abilitarlo Possiamo assegnarlo Ai bus Tutti e 24 Contemporaneamente Oppure al main mix Possiamo Adesso abbiamo già Configurato tutto Alzando Sentiamo subito L'effetto dell'oscillatore Con questi tasti In base alla combinazione Possiamo selezionare La frequenza Quindi ad esempio Con questa configurazione Abbiamo una frequenza Di 1 kHz Con questa configurazione 16 kHz Qui arriviamo A una delle ultime sezioni Che è il compressore Sul mix bass È un compressore Che si trova appena dopo Appena l'uscita Del sommatore E può essere attivato Con i soliti controlli Di un compressore E un meter di gain reduction Che simula In qualche modo Il quad compressor Del SSL Essenzialmente Appena sotto Troviamo Questa sezione Dedicata Ai ritorni Possiamo dire In maniera Quasi errata Dei gruppi Queste funzionalità Questo spazio Ci consente Essenzialmente Di ritornare Dai bus Per fare Ad esempio Delle compressioni Parallele Senza dover Per forza Passare Dalla patch bay Cosa significa Significa Che l'uscita Dei gruppi Va sia Su questi Trim E quindi Alla patch bay Sia anche A questi fader Dove troviamo Un controllo di pan L'assegnazione Al main mix Un controllo di Suoi di cut E un volume Nelle prossime Sezioni Di guida pratica Vedremo esattamente Cosa possiamo fare Diciamo Per ora Che essenzialmente Assegnando Al main mix E alzando il fader Riusciamo a Mandare Il segnale Del gruppo 1 Al main mix Molto semplicemente Può essere utilizzato Ad esempio Per fare Di sottogruppi Comunque Vedremo poi Nello specifico Cazzo Non si dice Cazzo Appena sotto L'oscillatore Troviamo La sezione Di gestione Del solo Notiamo Subito Che la parola Solo Si illumina Blinca Selvaggiamente Quando noi Abilitiamo Disabilitiamo Un solo Un qualsiasi Solo Del banco Subito Sotto Troviamo Il controllo Di livello Che varia Da meno 10 Più 10 Del solo Quindi può Essere attenuato O accentuato Rispetto al valore Nominale Abbiamo La possibilità Di selezionare Tra after fader listen E pre fader listen E la possibilità Di abilitare Solo in place Ovvero Un solo Distruttivo Ovvero Che cancella Il segnale Che c'è Sul main mix Abbiamo poi Una funzionalità Presente solamente Sull'audient Che è la possibilità Di avere Un solo In front Di norma Quando il potenziometro È messo Nella modalità Solo Il solo Avviene in maniera Del tutto normale Ovvero Quando noi mettiamo In solo Un qualsiasi canale Si sente solo Quello Nella control room Mano a mano Che questo Potenziometro Si sposta Verso mix Non c'è più Così tanta differenza Ovvero Il mix Non viene cancellato Quindi questo significa Che se noi abbiamo La posizione In questa posizione Nel momento In cui noi Abilitiamo un solo Diciamo che Sentiamo di più Un po' di più Il canale Che abbiamo messo in solo Ovviamente In relazione Alla quantità Di solo mix Che abbiamo scelto E questo serve Per una filosofia Secondo cui Non bisogna mai Ascoltare i canali In solo Ma bisogna sempre Contestualizzarli Nel mix Nel brano Che stiamo andando a mixare Ed eccoci qui Nell'ultima sezione Del banco Qui troviamo Il controllo Per il main bass Abbiamo poi Il livello Del microfono Di talkback E la possibilità Di assegnarlo Ai foldback Agli studio Loudspeaker Oppure slate Che lo assegna A tutti quanti I bass Compreso anche Il main mix Supponendo Che nei canali Dall'1 al 12 Abbiamo una batteria Come creare Un gruppo audio Di questi canali Beh Ciò è molto semplice Supponendo Che di default Noi avremmo I nostri canali Mandati al main bass Dobbiamo Anzitutto Toglierli Dal main bass In modo tale Che questi canali Non arrivino più A questo bass Dopodiché Dobbiamo Assegnare Questi canali Ai bass In cui vogliamo Fare il gruppo Ad esempio In questo caso Abbiamo già abilitato I gruppi 1 e 2 Per questi primi 4 canali Ovviamente Potremmo farlo Fino al 12 A questo punto Abbiamo la possibilità Di inviare Questi segnali Ai bass Ricordandoci però Che i bass Di default Sono sullo short fader Quindi cosa dobbiamo fare Dobbiamo Abilitare Con il tasto Lf Ecco qui Con il tasto Lf Dobbiamo fare in modo Che il segnale Che arriva Alla segnazione Di bass Sia quello Dei long fader Dopodiché Dobbiamo Decidere Come gestire I pan Nello specifico Sul gruppo di batteria Ad esempio Avremmo dei canali Messi centrali E dei canali Messi ad esempio Hard left Hard right E dei canali Messi un po' Una via di mezzo Ci sono varie filosofie C'è chi sostiene Che i canali Messi in posizione centrale Vadano mandati Ad entrambi Mentre i canali Hard left E hard right Vadano inviati Solo il gruppo 1 Ad esempio Solo il gruppo 2 Oppure gruppi 3, 4, 5, 6 E così via Comunque sia Per i canali Non hard left Hard right Docent Bisogna comunque Mantenendo il livello Di pan Andare ad abilitare Il tasto pan Ovviamente dopo aver abilitato Long fader Il tasto pan Sui singoli Ovviamente è possibile Se vogliamo essere Più veloci Più rapidi Assegnare pan E long fader Ad ogni singolo Assegnazione ai gruppi Dopodiché possiamo Controllare I segnali Che vanno ai gruppi Semplicemente Con i nostri panpotti In maniera tutto Indipendente Una volta Che abbiamo fatto Le mandate ai bus Ci ritroviamo Essenzialmente In questa situazione Ovvero I segnali Del nostro gruppo I gruppi Attenzione Dall'1 all'8 Ricordiamo Tornano sia In patch base Sia anche Qui in questi In questi ritorni In questo modo Noi possiamo assegnare I gruppi Al main mix Ricordate che prima Avevamo tolto I singoli segnali Dal main mix Ecco In questo punto Noi andiamo a reinserire Questa somma Nel main bus Possiamo fare il pan Di solito Si tiene pan aperti Left e right Nel caso Volessimo restringere L'immagine stereo Possiamo restringerli Nel caso Volessimo fare Un gruppo mono Possiamo fare Un singolo gruppo mono Dipende da cosa Vogliamo fare E possiamo gestire Il volume In questo modo Questa tecnica Ci consente Essenzialmente Di gruppare Gli strumenti Durante la fase Di mix Anche qui Ci sono varie teorie C'è chi preferisce Gruppare ad esempio Batteria Un gruppo mono Per il basso Ad esempio Le chitarre Le voci Ad esempio Ci sono altre tecniche Che prevedono Ad esempio Di gruppare In base Alla tipologia Di frequenza Per cui strumenti Dal range Basso Medio Medio Alto Ci sono varie teorie Comunque L'idea è questa Attenzione Che in questo caso Possiamo ad esempio Sfruttare i gruppi Anche per fare Ad esempio Compressioni parallele Se ad esempio Abbiamo fatto Come abbiamo visto La mandata I gruppi 1 e 2 Della batteria Ad esempio Potremmo copiare Le impostazioni Sui gruppi 3 e 4 Mandando Gli stessi segnali O diversi Ad esempio Di solito Nel gruppo Di batteria parallela Non vogliamo Che so Gli overhead Quindi possiamo Non assegnarli Comunque Una volta Che noi abbiamo Assegnato La nostra batteria Ad esempio Sia 1 e 2 Completa Che a 3 e 4 Ciò che vogliamo Mandare Nel compressore Per fare la parallela Possiamo semplicemente Comprimere Questi canali Grazie alla possibilità Che potrete vedere voi In patch bay Di avere gli insert Sui gruppi Dall'1 a 8 E' proprio una funzionalità Di questo banco In questo modo Ad esempio Ci troveremo Con la batteria Non compressa Plane E la batteria Parallela Sui gruppi 3 e 4 Ricordatevi sempre Di aprire i pan Se fate le cose Sterele Come fare una mandata Da un canale A un effetto Anche questo E' molto molto Semplice In questo caso Sfruttiamo Gli AUX Prendiamo ad esempio L'ipotesi Di voler mandare Ad un riverbero Il canale 23 Anzitutto Decidiamo Che AUX Utilizzare In questo caso Per comodità Utilizziamo L'AUX 1-2 Quindi Questi due potenziometri Qua Attenzione Due potenziometri Per mandata A stereo Se volessimo Non fare una mandata Mono Solamente L'1 Ovviamente Partiamo subito Dicendo che La mandata Presumibilmente La vogliamo fare Dal long fader Quindi Short fader Non va toccato La mandata Va fatta Post fader Soprattutto I riverberi Quindi Non dobbiamo toccare Nemmeno quello Quindi semplicemente Alziamo il fader E abbiamo mandato Il segnale Nell'AUX 1 Dopo questo passaggio Dovemo andare Nella sezione master Per abilitare L'uscita Dell'AUX 1 In questo caso Possiamo ascoltarla In solo Se questo ci interessasse Qualcosa Comunque Di fatto Siamo qui A questo punto In patch bay Noi ci troveremo Il segnale Della nostra AUX 1 Che noi manderemo Al nostro Processore effetti Al nostro riverbero In questo caso Il ritorno stereo Del nostro riverbero Possiamo mandarlo Un po' Dove vogliamo Essenzialmente Dove abbiamo un posto Di default La soluzione ottimale Sarebbe quella Di mandarlo In questi ingressi Stereofonici Che sono proprio Di ritorni effetti Nella immaginazione Comune Ciò non toglie Che noi possiamo Ad esempio Voler mandarlo Nelle ingressi Di linea Quindi Negli short fader Ad esempio Ricordatevi sempre Di settare Questo a unity gain Questo a unity gain Perché Piccola parentesi Quando voi Switchate Sulla linea Si attenua Di meno 20 Quindi la posizione Zero Diventa Meno 20 E quindi Per portarlo a zero Dobbiamo andare A 20 dB Secondo la sua scala A questo punto Vi dico solamente L'ultima cosa Per cui Se voi tornate qui Non potete avere controllo Su equalizzatori O cose del genere Se voi tornate qui Avete comunque La possibilità Tramite il click Di short fader Di utilizzare Uno shelving Piuttosto che Un full parametric Q Sul riverbero Sul vostro effetto Questo vi permette Ad esempio Se avete Un riverbero Che volete scurire Di togliergli Un po' di alti Ad esempio Ma è una scelta Che dovete fare voi